Gianluca Borelli, Swiss Gas, importantissimo essere qua oggi al workshop del Milan perché Swiss Gas è salita di categoria da premium top sponsor. Si confermo, una bella esperienza, abbiamo un programma che all'interno del Milan si sta completando, con la stagione che sta per iniziare tra una 15-20 giorni, noi siamo passati da premium a top sponsor. Come nasce l'idea di abbinare il marchio Swiss Gas, uno dei leader nel vostro settore, al brand Milan? Ma dunque, io come ho detto a Natale, la scelta era stata tra virgolette quella di uscire dal mondo del calcio, ricordiamoci una cosa, Swiss Gas è la prima azienda privata che ha investito nel calcio, noi siamo una piccola azienda privata che ha approcciato il mondo dello sport e del calcio partendo dai cugini milanesi, esperienza durata brevissimo e avevamo deciso di uscire, c'è stata fatta questa proposta e per rientrare io avevo chiesto un club importantissimo, ci è stata data l'opportunità di stare con il Milan, con la stagione che inizia sarà il terzo anno e siamo oggettivamente molto contenti. Nei due anni passati di sponsorship, quali sono stati i vantaggi che ha visto per il brand Swiss Gas abbinato a quello del Milan? Il dottor Gagliani oggi ha parlato molto bene di una cosa, valorizzare il brand del Milan che è uno dei brand più importanti del mondo nel settore calcistico, è stato per noi comunque un'opportunità per manifestare e trasmettere anche il nostro brand, il nostro brand oggi comunque al di là di tutto è noto ed è conosciuto grazie anche al Milan, oltre che ai nostri prezzi ovviamente, ma anche al Milan. Le chiedo in conclusione, lei parlava di un progetto che sta andando avanti, qual è il vostro business plan insieme al Milan e quali sono i vostri obiettivi da raggiungere adesso da qui in avanti? Gli obiettivi sono quelli di una crescita costante a partire già dal prossimo anno termico, con lo sponsor del Milan ci aspettiamo una crescita importante, oggettivamente importante, speriamo di diventare a breve anche fornitori della C.Milan con la nuova sede, Milanello, tutte le attività connesse ed è un'attività di crescita voluta, mirata, programmata, senza mai fare un passo più lungo, un po' nello stile della Casa Milan. Grazie Grazie